Sielte è un'azienda storica e sempre innovativa. Cosa la caratterizza? Sielte nasce nel 1925 come una realtà operativa della Ericsson. Oggi una realtà totalmente italiana, 100% italiana, posseduta dalla famiglia Turisi. Io la rappresento come Presidente Amministratore Delegato e proprietario unico della Sielte. Chiaro che il know-how di Sielte è il tema della costruzione di rete, quindi tutta la parte dell'infrastruttura, quello che oggi il nostro paese sta attraversando verso un percorso di digitalizzazione sempre più importante. Sielte copre sul territorio nazionale circa 31 sedi operative con due sedi importanti, una a Catania come direzione amministrazione e finanza e un'altra a Roma come direzione generale. Ha circa 4.000-4.500 dipendenti con un indotto che va oltre le 10.000 persone con divisioni dedicate, con più di 300 professionisti ICT e quindi è chiaro che è una realtà che è in continua evoluzione. Volontà nostra è quella che se ne parli ancora per molto tempo di Sielte e che possa avere un futuro ancora prospero. Da e verso poi quello che sono le esigenze del nostro paese. Qual è il valore aggiunto che Sielte è in grado di offrire ai clienti attuali e futuri, in particolare alle PIA e alle PMI? In questi ultimi anni Sielte ha iniziato un percorso di diversificazione fondamentale sia per la nostra azienda che per quello che possa essere anche il futuro del nostro paese e delle relazioni con le pubbliche amministrazioni. Perché è chiaro che iniziare un percorso di digitalizzazione internamente, sia in termini di processi che di procedure, ci permette di capire quanto è possibile esternalizzare verso le pubbliche amministrazioni, verso i singoli clienti, verso il singolo cittadino, quale importanza possa avere oggi il mondo della digitalizzazione. È chiaro che sono nate delle divisioni importanti, come la divisione dell'IT, dell'IoT e della Cyber Security. Perché tutto quello che oggi noi riusciamo a mettere in rete è chiaro che ha bisogno necessariamente di un percorso sicuro e fortemente dedicato poi al singolo cliente o al singolo cittadino. In Sielte si sono create delle divisioni che hanno fatto sì che tutto quello che possa essere messo in rete nel mondo dell'ultra broadband, quindi all'alta velocità, possa essere non solo un'opportunità così come l'e-commerce, come la possibilità di fare dello shopping sulle reti, ma utilizzare anche le pubbliche amministrazioni con più velocità, con più dinamicità, con più fruibilità anche da parte del singolo cittadino. Siamo l'identity provider tale per cui oggi riusciamo ad entrare in ogni singola parte del meccanismo del governo e dare a 360 gradi una grossa partnership a tutti i livelli, sia verso i nostri clienti che verso i servizi che poi rendono possibile una direzione del digitale nel nostro Paese. Qual è la sua visione di Italia Digitale? Abbiamo creduto e crediamo molto su quello che sono le opportunità che oggi vengono messe in campo, vediamo tutto il piano di nazionale di ripresa e resilienza che vede veramente un percorso sfidante sia per tempi, per risorse, per tutto, per arrivare non dico a una totale digitalizzazione del Paese, ma a una buona copertura a livello nazionale. Seguiamo la maggior parte dei nostri clienti in termini di partnership, i rapporti sono molto forti, ci trovano veramente cambiati, fare la differenza, governiamo oggi questo mondo, teniamo un po' la leadership nel settore in quanto abbiamo creduto in questo percorso di diversificazione, importante per quello che possa essere poi il futuro delle famiglie che oggi vivono con Sielte e per quello che possono essere anche i risvolti e il futuro della nostra stessa azienda.